Sono diventato genitore il 25 gennaio del 2022 e chiaramente nel mio ruolo di assicuratore nella mia professione ero già molto attento a quelle che erano le soluzioni assicurative ma nel momento in cui sono diventato papà ho dovuto rimettere in discussione tutti i contratti che avevo fatto e l'ho fatto ben volentieri per andare a tutelare ancora di più mia figlia ma anche e soprattutto per andare a tutelare anche sua mamma ovvero mia moglie. Ecco allora che nel video di oggi voglio fare con te dei ragionamenti per te che sei un genitore ragionamenti che naturalmente andrebbero poi approfonditi e che ti suggerisco di approfondire insieme attraverso i link che trovi per acquistare la tua consulenza dove riuscirò certamente ad andare più in profondità. Detto questo se ancora non mi conosci io sono Daniele Storpiana sono il fondatore del progetto assicuratore senza sorprese e ti invito a farlo se non l'hai ancora fatto a mettere un like a iscriverti al canale e ai miei canali social e a condividere questo video con più persone possibili in modo da poter aiutare tutte quante le persone a stare lontane da quelle che io chiamo brutte sorprese ovvero gli imprevisti della vita che giornalmente ormai possono capitare. Non so se è capitato anche a te ma nel momento stesso in cui ho saputo che mia moglie eravamo solo conviventi a quel tempo e rimasta incinta mi è cambiato tutto. Mi è cambiato tutto perché ero contro l'acquisto della casa e le ho detto dobbiamo comprare casa. Mi è cambiato tutto perché avevo fatto determinate polizze con determinati capitali e li ho praticamente raddoppiati o triplicati a seconda anche dell'andamento del mio reddito che nel corso degli anni è aumentato. Mi è cambiato tutto perché ho pensato a tutelare una vita che sapevo che fosse lì da qualche giorno da qualche settimana e che ancora materialmente non era nata. Ecco nel momento in cui sono diventato genitore e ho sentito di diventare genitore mi è scattato qualche cosa in testa ho avuto come un click e sono diventato più attento. Anche il modo di guardare i pericoli e i rischi in giro nella professione che faccio è migliorato notevolmente forse alle volte è diventato anche troppo estremo perché già prima ero molto attento però il mio occhio vigile nel capire che cosa potrebbe capitare in una determinata situazione in effetti si è modificato si è ampliato e questo mi ha aiutato anche nel mondo del lavoro quindi devo già dire grazie a mia figlia solo per il fatto che sia stata concepita. Ma non solo nella vita quotidiana di tutti i giorni quindi di lei a casa o ragionando su di me su quelli che sono i rischi che corro ma anche nella scelta per esempio degli asili dove ti metto peraltro un link che io ho utilizzato con una super professionista che è diventata una cara amica e ti metto un link per andare a effettivamente a chiedere la sua consulenza legata agli asili alle scuole materne ma anche ai nidi quali caratteristiche devono avere. Ti dicevo però prima che ho rimesso in discussione tutte le polizze bene nel momento in cui sei genitore non ti puoi più permettere di rischiare su alcune cose perché se prima puoi dire beh se capiterà qualcosa a me anche se non sono assicurato o anche se non sono assicurato bene e ho messo un capitale piccolo comunque mia moglie lavora comunque mia moglie in qualche modo magari potrà rifarsi una vita nel momento in cui diventi genitore quel discorso lì certo può anche essere fatto però sarebbe un discorso da persona non responsabile perché oltre a tua moglie o la tua compagna ci sarebbero anche i tuoi figli tua figlia o tuo figlio ok nel mio caso una figlia e una figlia piccola che ha tutta quanta una vita davanti che ha bisogno di un padre a livello emotivo ma che ha anche bisogno di un padre a livello economico che ha bisogno della famiglia del sostentamento economico per poter crescere sana per poter studiare per potersi divertire godere la vita ecco se venissi a mancare io tutto il mio apporto economico verrebbe a mancare quindi questo non può essere permesso da parte mia ragione per cui ho rifatto tutte le polizze le ho modificate ho ampliato di molto i capitali ma la stessa cosa la suggerisco a te quello che posso dirti per esperienza è che nella maggior parte dei casi vedo che i genitori spesso e volentieri per magari ristrettezze economiche che rispetto non ragionano neanche su questi problemi e questo invece mi dispiace io rispetto molto il fatto che una persona non possa permettersi di fare delle assicurazioni rispetto meno il fatto che una persona non prenda in considerazione l'idea di tutelare se stessa e i suoi cari poi magari non si può fare nulla a livello di soluzioni assicurative ma non pensare neanche a quali sono i rischi e non pensare a come si dovrebbe evitarli ecco questo lo trovo da persone irresponsabili mi fermo qui per quest'oggi andrò avanti in prossimi video a parlare di situazioni utili per i genitori ti ricordo ancora che c'è un link legato proprio alle consulenze per i genitori che si chiama famiglia senza sorprese è un'analisi personalizzata sul nucleo familiare per andare a capire come proteggere a 360 gradi il nucleo e trovi peraltro le testimonianze di chi ne ha già approfittato nelle settimane nei mesi e negli anni passati a me non resta che salutarti seguimi per altri consigli come al solito ti mando un caloroso abbraccio aspetto nei commenti le tue idee e ti do appuntamento al prossimo video ciao da daniele ciao ciao